Un'ombra lunga che ancora non è stata dissolta. 57 giorni separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Un tempo tragico, oscuro e colmo di tensione. Paolo Borsellino, 51 anni, da 28 in magistratura, procuratore aggiunto a Palermo dopo aver diretto la procura di Marsala, quel 19 luglio 1992 pranzò a Villa Grazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia. Poi si recò con la sua scorta in Via D'Amelio dove vivevano la madre e la sorella. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'abitazione della madre con circa 100 chili di tritolo a bordo esplose al passaggio del giudice, uccidendo anche i cinque agenti di scorta. Erano le 16.58 del 19 luglio 1992. L'autobomba uccise Emanuela Loi, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alle scorte. E poi Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Unico supersite, l'agente Antonino Vullo, che non ha mai considerato una fortuna essere scampato a questo orrore. Se della strage di capaci si conoscono dinamica e mandanti, sono tanti i misteri che avvolgono quella di Via D'Amelio. Nessun pentito ha mai chiarito finora chi abbia azionato il telecomando usato per l'ecirio di luglio. Uno dei misteri della strage è quello della scomparsa dell'agenda rossa, da cui Paolo Borsellino non si separava mai. Si dice che al suo interno il magistrato avesse appuntato i nomi dei mandanti eccellenti e dei politici collusi, i segreti delle stragi e anche l'indicazione dei soggetti istituzionali responsabili della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Ma all'interno dell'auto l'agenda rossa non fu mai ritrovata e da allora è come se si fosse volatilizzata. Mistero attorno al quale ruota probabilmente una delle motivazioni dell'attentato. Dopo 29 anni molti processi sono stati istruiti, molte condanne sono state combinate a mafiosi e gregari, ma rimangono ancora delle domande senza risposta in quello che la Corte d'Assise di Caltanissetta ha definito uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.